bellissimo essere qua anche quest'oggi con voi l'almanacco l'oroscopo in questo 10 aprile è san ezechiele i compleanni nel mondo dello spettacolo abbiamo rosanna banfi figlia d'arte attrice è nata il 10 aprile del 1963 un anno più tardi nasce un'altra attrice nancy brilli 10 aprile 1964 la frase del giorno poi arriviamo naturalmente ai 12 segni quindi all'oroscopo di oggi chi tutti disprezza offende insulta e sfida sembra vada cercando chi lucida ariete un problema pratico si risolve di certo grazie al vostro contributo ottimi contatti sociali vi aprono la possibilità di guadagni futuri ma è meglio per il momento rimandare un investimento accettate una critica costruttiva da parte di chi amate toro emozioni e sentimenti possono indurvi a qualche incoerenza tuttavia aumentano le vostre attrattive molto magnetismo al servizio di allettanti conquiste caratterizzerà questa giornata nei rapporti interpersonali chiedete e vi sarà dato gemelli non disperdetevi in attività affini a se stesse tenete ben presente lo scopo finale di quel che fate una certa volubilità vi rende imprevedibili non sempre facili da capire non rinunciate però alle occasioni di svago che vi verranno offerte per questa serata e in amore date respiro alle cose cancro qualche irrigidimento all'inizio della giornata dovuto a emozioni represse tutto si sblocca però già dal pomeriggio i pianeti tornano a darvi la spinta giusta si risolvono i contrasti in famiglia e nell'ambiente di lavoro un incontro stasera vi riserva liete sorprese leone siete bene avviate sulla strada che vi porta verso quella autonomia e quell'indipendenza a cui non siete disposti a rinunciare cercate di conciliare impegni lavorativi ed esigenze familiari in amore non siate troppo cerebrali e vivete spontaneamente ciò che davvero sentite vergine per essere in forma smagliante dedicate tempo al vostro corpo e concedetevi del relax una cura estetica migliorerà anche l'umore nel lavoro arriva una risposta oggi ma purtroppo troppo tardi ormai avete preso le vostre decisioni fate comunque bene a essere coerenti bilancia qualche piccola crisi evolutiva da vivere come occasione propizia per chi aspira a cambiare giornata ideale per fare chiarezza in voi stessi nel lavoro rallentate i ritmi e fate appello alla vostra intuizione in amore dichiaratevi anche a parole scorpione evoluzione planetaria favorevole e quindi ottima forma psicofisica molta vivacità mentale e abilità comunicativa belle intuizioni per uscire psicologicamente avvantaggiati da una situazione ingarbugliata sagittario concedetevi qualche tregua dagli impegni sociali avete bisogno di rifugiarvi un po nel vostro privato nel lavoro siate espliciti ci si aspetta da voi una più netta presa di posizione in campo affettivo la perseveranza vi premia capricorno nel campo delle amicizie oggi qualche rottura seguita però da felici riconciliazioni problemi lavorativi da risolvere evitando rigide prese di posizione l'elasticità e l'ampiezza di vedute saranno le vostre armi migliori acquario manifestate il vostro spirito d'iniziativa movimentando la giornata intensa la vita di relazione cercate però di superare un malumore passeggero per un problema che vi coinvolge solo di riflesso in campo sentimentale non divagate la persona amata vuole rassicurazioni pesci oggi ritmi veloci e ottime risorse psicofisiche favoriscono il successo anche se non mancherà qualche difficoltà vi sentite stimolati tutto riacquista un nuovo sapore in amore riconciliazioni e grande ottimismo dovete però moderare le spese grazie grazie